Sai, se fossi più giovane avvierei un'attività improprio, ma sono già troppo grande per provare cose nuove. Non posso avere successo con quel business, non sono abbastanza intelligente. Beh, mi piacerebbe iniziare ad allenarmi, ma non sto molto bene. Non posso ottenere quel lavoro, ho bisogno di un diploma e non ce l'ho. Ho sempre voluto creare la mia attività secondaria, ma sfortunatamente non ho il tempo. Ovviamente hanno scelto lui e non me, era il ragazzo più intelligente della nostra scuola. Sai, ho studiato in un paesino e l'istruzione era assolutamente scadente, ecco perché non ne ho ricevuto una buona. Conosci già queste affermazioni? Sono sicura che le hai già sentite molte volte. Sai cosa sono? Scuse. Queste sono le scuse che ci raccontiamo per giustificarci del perché non stiamo facendo certe cose o perché non abbiamo successo. Ci raccontiamo queste scuse per non sentirci in colpa. La scusa è una malattia e in questo video ti spiegherò come curarla. Inoltre parlerò di diverse lezioni sulla paura, sulla fiducia in se stessi, su come pensare in grande e su come pensare in modo creativo. Tutte queste lezioni sono tratte da un libro intitolato La magia di pensare al successo, di David Schwartz. Cominciamo con una scusa. Sono nata in un paesino piccolo e ho vissuto lì fino ai 18 anni. Quando ero al liceo avevamo un vicino di mezza età che parlava costantemente dei suoi anni universitari e di come fosse il migliore della sua facoltà. Parlava di quanto fosse difficile studiare all'epoca e del fatto che quando era studente non aveva ricevuto alcun sostegno finanziario dalla sua famiglia. Parlava anche con grande orgoglio dei suoi amici che ora occupavano alte posizioni a Roma. Un giorno ho chiesto a quest'uomo come avesse fatto a finire in un paesino con un lavoro così poco retribuito, visto che era un così bravo all'università. Lui è rimasto in silenzio per qualche secondo e poi ha detto che il suo sogno era andare a Roma, ma si è sposato e ha avuto dei figli e per tale motivo non è riuscito ad avere successo come i suoi amici. Ha praticamente detto che non ha avuto successo a causa di sua moglie e dei suoi figli. All'epoca mi sembrava che quest'uomo avesse sacrificato la sua carriera per la sua famiglia, ma dopo aver letto il libro La magia di pensare al successo, ho capito che quest'uomo stava solo usando la sua famiglia come scusa per il suo fallimento nella vita. L'autore afferma che più una persona ha successo, meno scuse trova. Sono sempre le persone che non vanno da nessuna parte nella vita che trovano scuse per le quali non possono o non potranno. Se vuoi fare qualcosa, trovi un modo, altrimenti trovi una scusa. Potresti ricevere un po' di compassione dai tuoi amici, ma non riceverai rispetto se ti lamenti sempre. I pensieri positivi o negativi si rafforzano quando vengono fertilizzati da una ripetizione costante. Una volta che ti convinci con una scusa, il tuo cervello si spegne e non cerca nemmeno strade alternative per raggiungere l'obiettivo. Una delle scuse più comuni è pensare che non sei abbastanza intelligente o non hai ricevuto un'istruzione adeguata. È molto comune, la maggior parte delle persone che ci circondano utilizza questa scusa. Ecco tre modi per superare questa malattia. Primo, ricordati sempre che il tuo atteggiamento è molto più importante della tua intelligenza. L'autore racconta di un suo amico che aveva solo un braccio, ma era un grande giocatore di golf. Quando l'autore gli chiese come facesse a essere così bravo a golf nonostante la marcanza di un braccio, la sua risposta fu, il giusto atteggiamento e un solo braccio batteranno sempre un atteggiamento sbagliato e due braccia. Lascia che lo ripeta, il giusto atteggiamento e un solo braccio batteranno sempre un atteggiamento sbagliato e due braccia. Immagina di essere il capo e di avere due contabili nella tua azienda. Il primo ha molti anni di esperienza e fa bene il suo lavoro. Il secondo è piuttosto inesperto ed è nuovo nell'azienda. Il primo contabile non si preoccupa di nulla al di fuori del suo lavoro, fa solo quello che gli viene chiesto e basta. Al contrario, il secondo contabile aiuta i suoi colleghi se finisce presto il suo lavoro. Quando arriva qualcuno nuovo in azienda, lui lo accoglie calorosamente e gli offre il suo aiuto. Se c'è qualcosa che può fare nell'ufficio marketing, lo fa e basta, senza dire che non è il suo ufficio. In poche parole, cerca di aiutare l'intera azienda ad avere successo piuttosto che concentrarsi solo sulla contabilità. Ora, se fossi il proprietario dell'azienda e dovessi promuovere uno dei due contabili, chi sceglieresti? Sono sicura che sceglieresti il secondo contabile perché ha l'atteggiamento giusto. Vedi, avere l'esperienza e l'intelligenza non vale molto se poi non hai l'atteggiamento giusto. Nella vita reale mi è capitato di vedere l'esempio precedente molte volte. Sono sicura che se guardi l'azienda per la quale lavori, lo troverai anche tu. Credimi, se vuoi andare avanti, cambiare il tuo atteggiamento è più che sufficiente per fare la differenza. Secondo, saper pensare è molto più importante dell'intelligenza. La persona che sa usare il cervello e l'immaginazione per risolvere i problemi batterà sempre la persona che usa il cervello come ripostiglio per i fatti accaduti. Immagina di svolgere un colloquio a due persone per la tua attività. Il primo candidato entra e gli chiedi se sa qual è l'altezza dell'edificio in cui vi trovate in questo momento. Il candidato dice Sì, lo so, ho lavorato come architetto per diversi anni e ho memorizzato l'altezza di tutti gli edifici di questa zona, quindi l'altezza di questo edificio è di 25 metri. Ed è la risposta giusta. Il candidato ti ha dato una risposta precisa. Poi se ne va. Entra il secondo candidato e gli fai la stessa domanda. Ti guarda e dice che non conosce la risposta, poi ti chiede di scusarlo per qualche minuto. Il candidato corre all'esterno, misura la lunghezza della propria ombra a terra, poi misura l'ombra dell'edificio, confrontando il rapporto di queste due ombre ottiene un numero, torna di corsa dentro e ti dice che l'altezza dell'edificio è di circa 23 metri. La mia domanda è Chi assumeresti? Non ti conosco, ma so che assumeresti il secondo candidato, anche se la sua risposta non è stata precisa, anche se ti ha dato la risposta sbagliata, perché sa pensare. Sa come usare il cervello. Oggi più che mai abbiamo bisogno di persone che sappiano pensare. A scuola impariamo a risolvere problemi a scelta multipla, ma i problemi nella vita reale non sono a scelta multipla. Le opzioni non sono definite e le soluzioni sono da qualche parte là fuori e richiedono di pensare fuori dagli schemi. Siamo così abituati ai problemi a scelta multipla che anche quando chiedi al tuo amico in quale ristorante vuole andare per pranzo, ti guarda e ti dice Quali sono le mie opzioni? Invece di pensare e di trovare qualcosa, vuole delle opzioni in modo da poter scegliere. Quindi ricorda che la capacità di pensare è molto più importante della capacità di memorizzare i fatti. Potresti non ottenere il massimo punteggio all'esame, ma sono sicura che hai un modo di pensare unico. Infine, terzo, non sottovalutare mai la tua intelligenza e non sopravvalutare mai quella degli altri. Non sminuirti, concentrati sulle tue risorse e scopri i tuoi talenti superiori. Un'altra scusa comune riguarda l'età. Non importa a che punto siamo nella vita, utilizzeremo la scusa dell'età o sentiremo qualcun altro lamentarsi di ciò. Questa scusa ha chiuso la porta delle opportunità reali a migliaia di persone. Pensano di essere troppo vecchi o troppo giovani, quindi non si preoccupano nemmeno di provarci. Ad esempio, mettiamo che hai 40 anni e vuoi iniziare a creare la tua attività, ma pensi di essere troppo vecchio per questa cosa e quindi non vuoi provarci. Prima che tu smetta completamente, permettimi di farti alcune domande. Se ti chiedessi qual è l'età media in cui di solito iniziamo a essere produttivi nella vita, probabilmente diresti che sono i 20 anni, giusto? Diresti che questa è l'età in cui la maggior parte di noi inizia a lavorare e a creare qualcosa. Ok, lascio che ti faccio un'altra domanda. Qual è l'età media in cui finisce la vita produttiva di una persona? Probabilmente diresti che è 70. Ci sono molte persone che sono produttive anche dopo i 70, ma diciamo che sono i 70. In base alle tue risposte, possiamo dire che in totale hai a disposizione 50 anni per essere produttivo. 70-20, 50. Quindi se hai 40 anni, significa che sei stato produttivo solo per 20 anni e hai ancora 30 anni per esserlo. Non hai nemmeno raggiunto la metà della tua età produttiva e mi stai dicendo che sei troppo vecchio per provare cose nuove. Potresti non fidarti di me, ma spero che tu abbia ancora fiducia nella matematica. Lezione numero 2. Come pensare in grande. La maggior parte delle persone non riesce nemmeno a pensare in grande. Non sognano nemmeno ad occhi aperti di avere un milione di euro sul conto. Ma non fraintendermi, non sto dicendo pensa in grande e tutto andrà bene. Niente affatto. Pensare in grande è solo l'inizio. Dopo aver pensato in grande devi lavorare sodo, devi fare cose che gli altri non fanno, devi fallire molte volte e rialzarti. Devi leggere molto, devi lavorare in modo intelligente. Ci sono centinaia di passaggi che devi compiere dopo aver pensato in grande. Pensare in grande è solo il primo passo e se non riesci nemmeno a farlo, temo che non ci sia speranza per te. Quando ero all'università, la maggior parte degli obiettivi del mio gruppo di amici era laurearsi e lavorare in una buona azienda o una banca. E solo pochi di loro non volevano lavorare per una buona azienda, ma creare una buona azienda. Molti anni dopo, guardandomi indietro, vedo che entrambi i gruppi sono sulla buona strada verso i loro obiettivi. Se il tuo obiettivo è laurearti e lavorare in una buona azienda, allora stai fissando il traguardo troppo vicino. È come se dicessi, voglio andare in palestra ogni giorno per poter fare 20 flessioni. Quando si tratta di successo, le persone non si misurano in chili, lauree o famiglia, ma in base alla dimensione del loro pensiero. La più grande debolezza umana è l'autocritica ed etichettarsi con un valore molto basso. Se il tuo amico Tommaso ha l'obiettivo di guadagnare un milione di euro, ma pensi che sia impossibile, allora perché dovrebbe accettarti come partner per la sua nuova idea di business? Se pensi di non meritare quella bella ragazza, allora perché lei dovrebbe pensare che la meriti? Se hai 20 anni e ti candidi per lavorare nella mia azienda, il mio obiettivo è assumerti e farti crescere in modo che tu possa dirigere una delle filiali in futuro, ma durante il colloquio le uniche domande che fai riguardano il lavoro da casa, i buoni pasto, i giorni di ferie e il piano pensionistico, allora perché mai dovrei assumerti? Ed ora un ultimo consiglio sul pensare in grande quando si tratta di discussioni e problemi quotidiani. Se vuoi evitare il 90% delle discussioni con il tuo partner o al lavoro, allora ogni volta che si verifica una discussione poniti semplicemente questa domanda. È qualcosa su cui una persona importante come me discuterebbe e spenderebbe il suo tempo? Così eviterai molte discussioni senza senso e ricorda anche che discutendo non vinci nulla. Lezione numero 3. Come gestire la paura Sono sicura che ti sei ritrovato in una situazione in cui avevi paura di qualcosa o di qualcuno. Forse avevi paura di non superare l'esame e di vergognarti, di perdere il lavoro o avevi paura di parlare con il tuo capo. E quando hai condiviso le tue paure con il tuo amico, lui ti ha guardato e ha detto Dai, andiamo a pranzo, stai esagerando, è tutto nella tua testa. I nostri amici e parenti si aspettano che ci sentiamo meglio quando ci dicono È tutto nella tua testa o è solo nella tua immaginazione. Ma la realtà è che la paura è reale ed è una forza potente. Poi ovviamente la paura è nella mia mente, non penso possa essere nei miei piedi. Quindi non aspettarti che mi calmi se mi dici che è solo nella mia mente. La paura e la mancanza di fiducia in se stessi sono reali e sono il nemico numero uno del successo. La paura di qualsiasi grandezza è una forma di malattia psicologica. E sai qual è la cura? L'azione Hai mai visto una persona in piedi davanti a una piscina ma con la paura di saltare? Rimane lì senza agire, ma improvvisamente qualcuno la spinge e in pochi secondi la paura è finita e si ritrova in acqua. L'azione cura la paura Lascia che ti racconti una storia dal libro per capire meglio questo concetto. L'autore racconta che un giorno un responsabile delle vendite gli ha chiesto aiuto e gli ha spiegato che temeva di perdere presto il lavoro. Gli ha detto che ultimamente i numeri delle vendite erano molto bassi nel suo reparto e per questo c'era una grande possibilità che venisse licenziato. Dopo aver ascoltato la storia del responsabile delle vendite, l'autore ha chiesto come volesse agire per risolvere la situazione. Un po' confuso, il responsabile delle vendite gli ha chiesto cosa intendesse. L'autore ha risposto dicendo Sì, capisco che hai paura, capisco che sei ansioso, ma quali azioni stai intraprendendo per evitare di perdere il lavoro o ridurne l'impatto negativo? Il responsabile delle vendite non aveva alcun piano d'azione. Quindi l'autore gli ha consigliato di fare immediatamente due cose. Innanzitutto annotare i possibili modi per aumentare le vendite e metterli subito in pratica. In secondo luogo, per ogni evenienza, cercare altri lavori in altre aziende. Dopo diverse settimane, il manager lo ha chiamato e gli ha detto che dopo l'incontro aveva intrapreso diverse azioni e i numeri delle vendite erano migliorati molto. Inoltre aveva ricevuto due offerte di lavoro da diverse aziende, ma le avrebbe rifiutate perché le cose stavano andando bene nella sua attuale azienda. Come vedi, quando abbiamo paura, ci dimentichiamo che ci sono azioni che possiamo intraprendere. Ci blocchiamo e aspettiamo solo che accada il peggio, o semplicemente speriamo per il meglio. Ecco un piccolo esercizio per la paura. Quando hai paura, dovresti dividerla immediatamente in due parti. Sulla parte sinistra scrivi qual è la cosa di cui hai paura e sulla parte destra scrivi quali sono le azioni da compiere per eliminare o ridurre la paura. Ho detto che devi farlo immediatamente perché più tempo fai passare, più aumenta la paura. Dare più tempo alla paura è come dare del fertilizzante a un'erbaccia. Ad esempio, un giorno dovevo inviare un'email importante a tutto il mio reparto, ma avevo paura di quali sarebbero state le reazioni, quindi decisi di pensarci un po'. Dopo alcuni giorni, finalmente mi sedetti per scrivere l'email, ma non ci riuscii perché negli ultimi giorni avevo passato la maggior parte del tempo a immaginare come le persone avrebbero reagito male, come questo avrebbe potuto influenzare il mio rapporto con i colleghi, come alcune persone avrebbero potuto iniziare ad odiarmi. Qui pochi giorni hanno solo poggiorato la mia situazione. La verità è che nessuno fa nulla di utile senza ricevere delle critiche, quindi agisci rapidamente e sii deciso. L'esitazione amplifica solo la paura. Ora, parliamo della paura delle altre persone e di come possiamo essere sicuri quando comunichiamo con loro. Diversi anni fa lavoravo in un'azienda e c'era un manager con il quale collaboravo in molti settori. Questo manager era un ragazzo molto rispettato, ben informato e dall'aspetto serio. Io, ogni volta che parlavo con lui, mi agitavo. Quando era nella stanza facevo molta più attenzione a non dire qualcosa di stupido. Ogni incontro e ogni conversazione con lui era una prova di stress per il mio corpo e la mia mente. Un giorno ero a un corso di box e per qualche motivo l'allenatore non poteva partecipare. Quindi, invece di andare a casa, disse a tutti che avrei potuto portare avanti io l'allenamento se avessero voluto restare e allenarsi insieme. Furono tutti d'accordo. Dopo pochi minuti, questo manager entrò nella sala e disse che anche lui voleva iniziare a fare box. Gli spiegai la situazione e accettò di allenarsi comunque. A causa della mia passata esperienza con lui, mi agitai di nuovo, ma dopo dieci minuti di allenamento, lo guardai e mi resi conto di quanta difficoltà avesse. Prendeva a pugni come un bambino, era completamente senza fiato, nervoso e sembrava vergognarsi del fatto che non era in grado di allenarsi come gli altri. Lo guardai e mi dissi, è proprio come me. La prima volta che mi ero allenata, avevo provato esattamente le stesse cose che provava lui adesso. Poteva essere un manager di alto livello, ma in fondo eravamo uguali. Eravamo entrambi spaventati, entrambi lottavamo con cose nuove, entrambi ci vergognavamo, entrambi avevamo problemi nelle nostre famiglie. In seguito a questo evento non mi sono più sentita a disagio di fronte a lui e, grazie al mio comportamento rilassato, siamo diventati perfino più amici. Ora ogni volta che parlo con qualcuno di importante, lo immagino a quella lezione di box. Potrebbe sembrare strano, ma mi ricorda di guardare le persone dalla giusta prospettiva. Mi ricorda che siamo tutti umani. Le persone non sono così spaventose come le vediamo. Se togli tutti i titoli e le posizioni, siamo semplicemente persone e non c'è motivo di avere paura. Magari in questo momento c'è qualcuno nella tua vita che temi. Immaginalo in uno dei tuoi sport preferiti e vedi quanta fatica farebbe se gareggiasse contro di te. Questo approccio può aiutarti a mettere le persone nella giusta prospettiva. Potrebbe sembrare un consiglio strano, ma come funziona e magari funzionerà anche con te. Lezione numero 4. Come essere più sicuri. Mettiamo che una grande azienda mi offra molti soldi per pubblicizzare il proprio prodotto su questo canale. Guardo il loro prodotto, vedo che va tutto bene, ma c'è un difetto. Da prima esito a pubblicizzarlo, ma poi mi dico, dai non puoi rifiutare tutti quei soldi e poi i tuoi spettatori non si accorgeranno del difetto se non lo menzioni. Quindi lo pubblicizzo, ma sapete cosa accadrà dopo? Che la mia fiducia crollerà e vivrò nella paura. La mia mente si chiederà costantemente, hanno scoperto che io ho mentito? Verrò beccata? Avrò paura di guardare i commenti. Ogni volta che qualcuno mi fa domande sul canale non parlerò mai con sicurezza con quella persona. Agire bene permette di costruire fiducia, mentre agire male la distrugge. Ora non sono qui per farti una lezione religiosa sull'importanza di agire nel modo giusto. So solo guardando il lato pratico. Quando fai qualcosa che va contro la tua coscienza, ti senti in colpa. Non riesci a pensare lucidamente perché la tua mente si chiede in continuazione. Verrò beccato? Verrò beccato? Dentro ognuno di noi c'è il desiderio di avere ragione, pensare correttamente e agire correttamente. Quando andiamo contro quel desiderio, ammaliamo la nostra coscienza e quella malattia divora la nostra fiducia. Un giorno potresti avere una gran voglia di fare una vendita da arrivare a pensare di indurre deliberatamente in errore il cliente a comprare. E potresti riuscirci, ma ecco cosa accadrà. Ti chiederai sempre, il cliente ha scoperto che gli ho mentito? La prossima volta la tua presentazione sarà inefficace perché non riuscirai a concentrarti. È probabile che non riuscirai mai a vendere una seconda volta a quel cliente. Molti criminali vengono catturati non perché qualche indizio li incrimina, ma perché si comportano in modo colpevole. Quindi ecco una lezione importante sulla fiducia in se stessi che vale la pena leggere 35 volte. Pensare con fiducia, agire con fiducia. Agisci nel modo in cui vuoi sentirti. Il secondo fattore di scarsa fiducia è correlato a una memoria mal gestita. Il tuo cervello è molto simile a una banca. Ogni giorno depositi dei pensieri nella tua banca della mente. Questi depositi di pensiero crescono e diventano la tua memoria. Quando affronti un problema e inizi a pensare, in pratica stai chiedendo alla tua banca della memoria. Cosa conosco già riguardo a questo problema? La tua banca della memoria risponde automaticamente e ti fornisce tutte le informazioni relative a questa situazione che hai depositato in precedenza. La banca della memoria è tremendamente affidabile. Arriva il momento che fallisci in qualcosa e dici Salve signor banchiere della memoria, potrebbe per favore fornirmi alcuni dei miei depositi dimostrando che sono un fallito? E il tuo banchiere dirà Sì signore, ricorda di quando il suo insegnante in prima media le disse che sarebbe stato un fallimento nella vita? Si ricorda di quando ha perso il lavoro? Si ricorda di quando la sua ragazza la lasciò perché pensava che fosse un fallito? Si ricorda di quando non superò l'esame e non ottenne il diploma? L'autore consiglia due cose. In primo luogo, deposita solo pensieri positivi nella tua banca della memoria e non andare a dormire con pensieri negativi. Non pensare per ore agli eventi negativi. Vai a giocare con i bambini, fai qualcosa che ti distragga. In secondo luogo, preleva solo pensieri positivi dalla tua banca della memoria. Ora immagina di dire al tuo banchiere della memoria Può darmi dei pensieri che mi rassicureranno? E il signor banchiere dirà Sì signore E ti porterà ricordi che dimostreranno che puoi avere successo. Le persone di successo sono specializzate nel depositare pensieri positivi nella loro banca della memoria e nel ritirare solo questi. I pensieri negativi causano l'usura del tuo motore mentale Immaginano in questo modo Se prendi una manciata di ghiaia e la metti nel serbatorio della tua auto ogni mattina prima di andare al lavoro, come influirebbe sul motore? I pensieri negativi fanno lo stesso Quando i pensieri negativi iniziano a prendere il sopravvento, ricordati dove ti porteranno. Ricordati che puoi fare una scelta Non ho intenzione di fingere di essere brava in questo Neanche il contrario Faccio fatica anch'io Ma cerco di ricordarmi che posso scegliere quale parte della storia voglio depositare L'autore condivide molti altri suggerimenti per aumentare la propria fiducia Eccone alcuni Primo, esercitati a dire la tua Sono sicura che sei stato in una riunione o in un'aula in cui volevi commentare o dire qualcosa, ma non l'hai fatto Succede a molti di noi A quel punto ci diciamo Se dico qualcosa probabilmente sembrerò sciocco, quindi non dirò nulla Magari gli altri ne sanno più di me Non voglio che gli altri sappiano quanto sono ignorante Ogni volta che non dici la tua opinione, ti senti ancora più inferiore Ti prometti di farlo la prossima volta, ma probabilmente non parlerai nemmeno quel giorno Ogni volta che non parli, avveleni il cosiddetto albero della fiducia Di la tua e basta Esprimersi è una vitamina che crea fiducia Imponiti come regola di parlare a ogni riunione alla quale partecipi Nessuna eccezione Commenta, suggerisci qualcosa, fai una domanda e non essere l'ultimo a parlare Non preoccuparti mai di sembrare sciocco, non lo sarai Per ogni persona che non è d'accordo con te, è molto probabile che un'altra lo sarà 2. Esercitati a stabilire un contatto visivo Il modo in cui una persona usa i suoi occhi dice molto di lei Istintivamente ti poni domande sulla persona che non ti guarda negli occhi Cosa sta cercando di nascondere? Di cosa ha paura? Sta cercando di ingannarmi? Di solito il mancato contatto visivo comunica una di queste cose Mi sento debole accanto a te Mi sento inferiore a te Ho paura Evitare il contatto visivo con un'altra persona può anche significare Mi sento in colpa, ho fatto qualcosa che non voglio che tu sappia e temo che guardandoti tu lo scopra Quindi vinci questa paura guardando negli occhi l'altra persona 3. Siediti nelle prime file Hai mai notato nelle riunioni a lavoro o a lezione come le file posteriori si riempiono per prime? La maggior parte delle persone scatta per sedersi nelle ultime file in modo da non essere viste troppo E il motivo per cui hanno paura di essere viste è che non hanno fiducia in se stesse Sedersi davanti crea fiducia Fallo! D'ora in poi imponiti di sederti il più vicino possibile alla prima fila Lezione numero 5 Come pensare in modo creativo Il pensiero creativo non è riservato ad artisti, musicisti e scienziati Il pensiero creativo è semplicemente trovare modi nuovi e migliori di fare qualcosa Ad esempio, uno studente trova un modo per gestire i suoi corsi e allo stesso tempo crearsi una seconda attività Il dipendente trova un modo per risparmiare 20 ore alla settimana per la sua azienda Il venditore trova un modo migliore per vendere di più, eccetera L'autore afferma che il primo passo per iniziare a essere creativi in qualcosa è credere che si possa fare Quando lo credi, la tua mente trova il modo per farlo Quando credi che qualcosa sia impossibile, la tua mente si mette al lavoro per dimostrare perché non può essere fatto Ma quando credi davvero che qualcosa possa essere fatto, la tua mente lavora per te e ti aiuta a trovare i modi per farlo Le soluzioni iniziano ad apparire in momenti e luoghi inaspettati La convinzione libera, potere creativi Lo scetticismo mette i freni Quando non ci credi, fondamentalmente congeli il tuo cervello e non cresce nulla nel luogo congelato La persona di successo non si chiede, posso farlo? Sa che può Quindi si chiederà, come posso farlo? Quando ti chiedi come, accendi il tuo potere creativo Ecco un piccolo esercizio Prendi un quadernino e ogni giorno, prima di iniziare a lavorare, dedica 10 minuti a pensare Come posso aumentare le vendite? Come posso creare un nuovo business? Come posso studiare in modo più efficace? Qualsiasi cosa tu voglia ottenere Presto inizierai a ricevere soluzioni e idee che non avresti mai pensato esistessero prima Quando arrivano le idee, scrivile e ogni lunedì o venerdì rileggile tutte La maggior parte delle soluzioni trovate non varrà nulla Ma alcune sì e alcune idee si collegheranno ad altre e diventeranno un'unica grande idea Un altro modo per diventare più creativi è ascoltare di più piuttosto che parlare di più Le aziende di successo spendono milioni di dollari nella ricerca e nell'ascolto dei propri clienti che acquisteranno il prodotto Allo stesso modo, le persone di successo ascoltano di più Non impariamo nulla parlando Mentre non c'è limite a ciò che possiamo imparare chiedendo e ascoltando Una mente che si nutre solo di se stessa sarà presto denutrita, diventerà debole e incapace di svolgere il processo creativo Lo stimolo da parte degli altri è un ottimo cibo per la mente Mescolarsi regolarmente con persone al di fuori della propria area professionale stimola il pensiero sul proprio lavoro Grazie mille per aver speso il tuo tempo prezioso sul mio canale e guardando i miei video